Massimo Moroli, Presidente della Lazio Nuoto, oggi si apre una nuova aerea per il Salaria Sport Village che conferma l'impegno della sua società per quanto riguarda l'attività sportiva della squadra. Sì certo, il Salaria per noi è un punto fermo per il progetto di crescita futura. Quest'anno si è realizzato quello che ci aspettavamo da parecchio tempo, cioè che tutto l'impianto, tutta la struttura, che è una struttura meravigliosa, una delle più belle che c'è in Italia e forse in Europa, fosse gestita in maniera definitiva con gruppi professionali in grado di rispondere alla sfida che un impianto come questo pone. I giudici e gli amministratori che hanno in consegna questo impianto hanno scelto è venuta una società molto qualificata che sicuramente riuscirà insieme a noi a creare un progetto in grado di rispondere a questa sfida nella maniera migliore. Per poter costruire anche una squadra sempre più forte? Sì, noi copriremo la parte agonistica, diciamo, la nostra è una squadra che ha come mission un'attività agonistica di alto livello. Loro hanno come mission quella della divulgazione della cultura dell'attività fisica, della salute, il benessere, qualità della vita, cosa che va molto adesso anche su larga scala e quindi siamo complementari, cioè unire le due forze in un progetto comune significa creare un'offerta che non ha i quali sul rum.